Un video eroico, quello che state per guardare ragazzi, ormai la prima FUT Champions sta per arrivare al termine ed è il momento di tirare le somme di tutti i migliori heroes che abbiamo trovato in questi giorni qua sono davvero delle chicche molto molto interessanti e oltretutto EA ha deciso di dropparci un pacchetto nello shop da 2500 points o da 250.000 crediti che ci droppa un heroes garantito quindi andiamo a vedere il drop rate insieme perché sono un sacco di campioncini in questo video qua troverete infiniti pack heroes ma soprattutto ragazzi vi chiedo di supportare il video con un like un commentino e supportare il canale con un bellissimo iscriviti ora siamo caldi come il sole e pronti per entrare in questo nuovo video 5 4 3 2 1 e anche quest'oggi giunti vivi alle 19 pacchetto inizio stagione eroico un oggetto eroe base 25 euro di pacco con un hero garantito oh madre mia ragazzi per chi lo vuole fare invitate pure OnlyFlocox perché è il momento di andare ad aprire questo pacco qua a voi chats vediamo 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 deliro a parte che neanche un walkout vedi che disastro andiamo ad aprire qualche qualcuno vostro altro giro altra corsa altri 25 euro ah ma di nuovo non di nuovo nulla vedi che disastro e l'iro madre mia direi che può bastare così ma ragazzi ma uno scherzo c'è questo pacco qua continua un hero garantito e non esce mai la cacciata the fuck vedi che disastro oh hero finalmente es zero bb porca troia se si può dire zero bb è huge ragazzi w massiva zero bb quanto è 800k mi pare beh c'è una roba proprio ingiocabile bello 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 oddio che cazzo ah na cagata beh oddio sai che inizio game mmm non lo so oh l'ha trovato ad ingle che cazzo è peccato che non so se lo possa far giocare però quanto costa il cuccio ah messi sotto pure così e maradona non lo potevi trovare la scott ah c'è pure kundè sotto e beh ah verbatov com'è questo una bara roba di barba merda roba meat oh cazzo diamo la scott perlomeno sotto c'era una un rafigna che rende il dolore meno tragico però non se ne fosse visto uno eh capito ti trovi berbatov nei denti udegard e berbatov marchignos e bernardo e dempsay manca un walkout esattamente come il mio guarda spiccicato e io mi son trovato dempsay tu te lo sei trovato pure mezzo vabbè andiamo con questo 25 euro di hero garantito ok e allora vai run però questo 88 di velocità ah rodrigo udoggi sotto vabbè lamentati dai oh hero walkout dc ingle cazzo carragher hero walkout facciano una buona dc vedi che disastro oh rate in 89 che gira rivederci 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 e grazie damn dempsay oh signore oh 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 mi chiam massive w tiro altro che 25 euro di hero another one cc spagnolo chi è guti oh ma guti com'è c'è il regista plus plus mi pare vero non è manco malvagissimissimo oh hero walkout mamma mia lui cosa hero ts ah rise è inizio gioco eppure buono c'è se 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 il signor rise altro giro altro hero vai oh e questa è una massiva w cap de vila eh si buono 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 lui questa roba di prime subs se questo è in game spigna ragazzi lo usavo in competitivo due annetti fa gran bella carta infatti con ste sue 200k hero garantito del selezionatore vediamocelo oddio cc spagnolo roba di guti che poi non è manco malvagio sto guti che c'è sotto una merda c'è sotto mamma mia sto pacco vediamo un po' questo hero oh camminante attaccante nigeriano oh ococia no mi dimentico sempre di sto qua io un disastro altro che ococia bel disastro va ma vedi che disastro chi è questo arciavin non so perché mi sia venuto arciavin pensavo a lui ma ha detto arciavin mosto voi pensavo manco esistesse bruttissimo hero 86 più camminante attaccante italia totò vialli buono ma non lo fa td brasili credo sia eroe base let's go donna cc inglese chi cazzo è oh madonna mia che disastro camminante uomo es chi cazzo è oddio hazard ma no way questo è account è una roba clamorosa wow finalmente ragazzi finalmente giusto prima abbiamo aperto un livello 1 che davvero non era giusto questo è giusto vi ringrazio a tutti quanti per il supporto mi raccomando ci sentiamo nel nostro gruppo fatto apposta per sentirci off stream il nostro gruppo telegram che siamo appena arrivati a 5000 quindi ottimo direi dando un bacione grazie a tutti per la compagnia e l'appuntamento è a domani e come dice swing swagger se non è